Noi abbiamo messo circa 5 miliardi solo per l'emergenza a scuola, naturalmente sono fondi che vengono utilizzati da un lato per gli spazi, dall'altro per gli organici e siamo anche impegnati a dare una mano agli antilocali per tutto quello che comporterà l'onere del trasporto scolastico perché non vogliamo lasciare solo nessuno. Non ci sta alle polemiche politiche su come il governo si sta misurando con la riapertura delle scuole in sicurezza sanitaria e invita le opposizioni a un atto di responsabilità. In visita a maestri a sostegno della candidatura di Pierpaolo Barretta, sindaco di Venezia, la viceministra all'istruzione Anna Scani elenca quanto fatto finora dall'esecutivo sul fronte del contrasto del coronavirus nelle scuole e quanto rimane da fare in una partita che coinvolge tra gli altri vari ministeri, la conferenza Stato-Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico, una partita che nelle ultime ore si sta concentrando sul trasporto scolastico. Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà le richieste ulteriori che sono arrivate dalle regioni. L'impegno è quello di garantire un servizio che sia però in sicurezza nell'interesse degli studenti, delle loro famiglie, di tutto il personale e quindi del Paese. La messa in sicurezza dei trasporti andrà a completare un piano che ha visto al momento un aumento dell'organico contest sierologico degli insegnanti, adeguamento delle strutture scolastiche, un protocollo unico nazionale in caso di positività in classe, accompagnate da una serie di condizioni che regoleranno le modalità di ingresso a scuola e di presenza in classe degli studenti. La misurazione della febbre, come ha detto il Comitato Tecnico Scientifico, va fatta prima di uscire di casa per non mettere a rischio nessuno e la responsabilità condivisa è uno degli elementi cardine per la riapertura ma per la gestione dell'emergenza in generale. Per quello che riguarda la mascherina è obbligatorio laddove non ci sia il distanziamento, quindi non è obbligatorio tenerla al banco quando si è distanziati di un metro, negli spostamenti invece si dovrà utilizzarla e la fornirà il commissario straordinario che fornirà 10 milioni di mascherine al giorno oltre al gel sanificante.